Indagini e lampo dei carabinieri della stazione di Condofuri, San Carlo, nel Regino, che in poche ore hanno rintracciato ed arrestato in fragranza il presunto responsabile del tentato omicidio avvenuto nel pomeriggio di ieri e durante il quale è rimasto ferito un 21enne della cittadina regina. Le investigazioni sono scattate dopo che la vittima è arrivata nel pronto soccorso dell'ospedale Tiberio Evoli di Melito Portosalvo con una grave ferita da taglio al collo e dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. I militari, dopo aver raccolto le prime informazioni, si sono subito messi alla ricerca dell'aggressore che è stato individuato nei terreni vicini alla sua abitazione dove aveva provato a nascondersi per evitare la cattura. L'uomo, un 21enne, Anchelli di Condofuri, Santo Martinelli, è stato trovato con addosso ancora le tracce di sangue della vittima. L'immediato sopralluogo sulla scena del crimine, eseguito nell'immediatezza dai carabinieri specializzati del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Melito Portosalvo e le dichiarazioni raccolte dalle persone a vario titolo a conoscenza dei fatti avrebbero quindi consentito agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e di raccogliere un grave quadro indiziario a carico del 22enne. Il folle gesto, da quanto riferito dagli stessi uomini dell'arma, sarebbe avvenuto al culmine di un litigio nato per futili motivi. Martinelli è stato quindi arrestato ed è stato accompagnato nel carcere di Argillà in attesa del giudizio di convalida.